ed eccoci qua ragazzi bentornati sul mio canale qui è sempre uchika gamer che vi parla e siamo tornati su assassin's creed syndicate dopo aver svolto l'uccisione dell'ufficiale lì di starrick ovvero lord cardigan ci prepariamo a come si può dire a catapultarci alla ultima sequenza ovvero la sequenza 8 e andiamo a vedere che cosa ci aspetta le gioie della libertà giochiamola un invito a cena e con chi ce n'erai questa sera maxwell roth il capo dei blighters non ci andrà certo che no una vediamo un po' ah ci aspetta solo la missione questa qua strani amici poi abbiamo ho solo questa da sbloccare quest'area e va bene andiamo a fare questa missione qui allora allora non riesco ad uscire scusatemi ragazzi ma sono ancora un po' come si può dire non proprio in piena forma ecco comunque come vi è sembrata questa serie almeno rispetto vabbè io non ve le ho portate qui sul canale ma immagino che molti di voi abbiano almeno giocato a unity o comunque anche a black flag rogue cioè ditemi un po' le vostre impressioni ragazzi unity comunque poi lo riprenderemo anche qui sul mio canale non appena finirà questa avventura inglese inglese cioè ho preferito continuarvi sindacate perché appunto sindacate è il capitolo uscito quest'anno 2015 comunque per cui ho detto va bene dai iniziamo sindacate iniziamo unity nell'attesa di sindacate sindacate è uscito proprio nel periodo in cui scusate dicevo ah si sindacate è uscito proprio nel periodo in cui avevo deciso di iniziare assassin anch'io come come canale e non avendo avuto la play 4 prima ho giocato a black flag sulla 3 ma tutti i giochi che ho giocato sulla 3 non li posso portare appunto perché non ho il game capture come si può come si penso di averlo detto giusto per una volta oh madonna che botto ci siamo quasi dovrebbe essere qua oh per me usi lei eh la freccia come dicono gli inglesi oh no mi scusi devo prendere il mio tè se non sono un vero inglese guarda sta buono maciste è qua sopra andiamo a svolgere la missione mister ma qual è il punto della missione e qui ah sta a vedere che è sotto madonna mia oh oh intanto ho trovato una cassa mortacce mia ok eccoci qua strani amici giochiamo strani amici meglio controllare l'età aha è lì parla con il portiere un cannoniere ed un portiere ah no non è quello però ci stava eccolo lì mister sono qui per il signor armi no grazie ho già le mie eh 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 vi aspettano sul palco signore di qua oh molte grazie ok ok se maxwell rot immagino vi sto tenendo d'occhio ormai da un pezzo e trovo il vostro eroismo nello sfidare il grande Crawford Starric direi magnifico ho rubato i vostri uomini migliori uno dopo l'altro non siete arrabbiati al contrario è questo il sale della vita ma il signor Starric è un'altra storia mi impartisce ordini è terribilmente noioso eh noioso perché non collaboriamo per eliminarlo non sono molto sicuro amico se non mi sono beve così senza neanche sapere cosa c'è dentro allora potrete attaccare il teatro e uccidermi voi stessi e voi cosa ne ricavate l'occasione di divertirmi con l'uomo più scaltro di Londra va bene ci sto cioè tu hai appena pianificato di ammazzare uno che vuole essere ammazzato credo credo cioè non l'ho capita sto cosa guida rota a destinazione ah devo guidare io vorrete che vada da solo no dai andiamo prendete le retini cocchiere a San Pancras sì signore ci penso io oh che bello avere la strada libera tutta per moi sei troppo lento dai 80 metri mancano come in sol oh dio segui rot ma dove ti devo seguire rot minca ti arrampichi bene però c'è un treno fermo dentro San Pancras intendo sbarazzarmi della merce di Starric scatenando l'inferno perché no giusto adesso un treno viene verso di noi vi farà entrare non visto nella stazione sempre che rimanga sui binari direi buona fortuna ma non vi serve io mi assicurerò che i rinforzi di Starric non entrino nella stazione ok allora facciamo co usa il treno in movimento allora allora E dai, la cosa bella è che sono tutti di livello basso Bella Bellissima Che è il prossimo? 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 Che è il prossimo?